L'amministrazione comunale di Apriliano, assessorato cultura e spettacolo, il 19, il 20 e il 21 ottobre, presenta la terza edizione delle giornate pantiane. Teatro, convegni, stand gastronomici, musica itinerante, premio letterario, gara di cucina storica pantiana. Questo e tanto altro, il 19, il 20 e il 21 ottobre, ad Apriliano, per celebrare Duonno Pantu, i suoi canti erotici e i gapulieri.